Rossini TV quotidianamente accende le telecamere sulle segnalazioni di voi telespettatori che ci inviate al numero whatsapp dedicato 370-366-7210. Rossini TV che è ancora più contenta di accendere le proprie telecamere quando le segnalazioni sono risolte. È il caso della zona Soria dove avevamo segnalato un paio di settimane fa la situazione di diverse ammaloramenti stradali soprattutto legati ai lavori della Fibrotica che avevano procurato dei solchi importanti in questa zona in particolar modo in via Gattoni. Dopo pochi giorni dalla nostra segnalazione le buche sono state ricoperte dagli operatori del comune rendendo la strada più sicura e più fruibile. E dunque interventi su strade ammalorate che si inseriscono nell'ampio piano asfalti di quest'autunno del comune di Pesaro. Lo stesso sindaco Matteo Ricci attraverso un post nelle ultime ore ha ricordato i tanti interventi di questi giorni completati su via Legorizia, strada Montefeltro, strada Vallugola, via Pieve, strada della Leccia, strada San Giorgio, via Lago Maggiore, via Cardinal Massaia e il parcheggio di via Basento. A breve sono attesi altri lavori su altre strade dei quartieri cittadini e sono tante che chiedono anche a noi di Rossini TV di essere inserite in questa agenda dei lavori. È il caso ad esempio della zona Monte Granaro dove ad esempio in via Vogado dove ci troviamo ancora c'è una situazione segnalata dai residenti di strada particolarmente ammalorata disse stata sia per quello che riguarda il tratto carrabile sia i parcheggi sia il percorso ciclo bedonale in questa strada che si inerpica in salita. Lo stesso dica siccome vi avevamo già segnalato in zona tombaccia tra via Cesena via San Marino e via Pennabilli diversi diverse buche diversi avvallamenti che ancora aspettano di essere inseriti nell'agenda dei lavori e chissà che il piano asfalti non rispondi a questa richiesta dei residenti.